Siamo dunque alla pagina sportiva dal Corriere dell'Umbria. Rimontina Grifo, niente svolta. Finisce 1-1 Novara Perugia. La bestia nera Maniero manda avanti il Novara, poi Cerri firma il pareggio. Il Perugia resta sempre nel limbo. La vittoria in trasferta continua a mancare dall'esordio a Chiavari. Classifica anonima, meno 5 dai play-off, più 2 sui play-out. Giovedì Lempoli per provare a girare a 27 punti. Ovviamente ci sono le pagelle del Prete che assist volta male su Maniero, Cerri imprescindibile. Bianco tiene in piedi da solo l'intera mediana. Di Carmine lavora tanto ma alla fine è poco lucido. Andiamo a Terni perché c'era a Ternana Unicusano, perché ora si chiama così Provercelli. Finisce 4-3. Fa tutto Montalto. Fereo che è il clamoroso poker dell'attaccante. Di Morra, Baiusce, Vives sul rigore. Le reti piemontesi. Finisce 4-3. Torna la vittoria alla Ternana dopo oltre due mesi con qualche sofferenza di troppo nel finale. Anche qui ovviamente ci sono le pagelle. Il titolo è tutto dedicato al goleador Montalto che se ne prende 9 di voti. Poker memorabile, Pizzari semplicemente super, Benere, Angiulli e Paolucci a centro campo. Sela cava la difesa in piena emergenza. Intanto è bello anche sottolineare questa notizia. Un regalo per i bambini dell'ospedale. Iniziativa dei giovani della Ternana con l'associazione I Pagliacci. Dal calcio al volley è Atanasievic, il superman della Sir Perugia. È bella anche l'immagine. In scadenza nel 2018 ma pronto a rinnovo, soprattutto dopo l'incontro positivo che il presidente Sirci ha avuto di recente con il suo procuratore. E poi ancora per lo sport, restando al Corriere dell'Umbria, torniamo al calcio. Parliamo di Gubbio. Il ferro è caldo, esame Vicenza da passare. C'è entusiasmo dopo i tre punti contro Bisoli ma Pagliari avverte. Dovremo dare più del massimo. La squadra in difficoltà, ovvero quella del Vicenza, ma hanno nomi che io non posso cancellare. E poi parliamo del comitato regionale Umbro, è vero della CRUL, il comitato regionale del calcio Umbro. Eletti Caridi e Franchi, l'Assemblea ha scelto i candidati a consigliere federale per l'area centro e a vicepresidente vicario della LND. Intanto parliamo ancora di sport con il Corriere dell'Umbria, ma parliamo di arbitri. Bravi, gentili e cipolloni, ma Castrica resta lassù. Ottima prestazione per i fischietti folignati che si avvicinano al leader di scena in prima. Giornata no per Frizia e Vagnetti, contestato Fiorucci a Corciano. Questo per il Corriere dell'Umbria, andiamo al messaggero. Perugia, pari e rimpianti. A Novara i Grifoni rimediano a uno sciagurato svantaggio, poi sfiorano il colpaccio di Cerri, il gol del meritato 1-1. La svolta arriva nella ripresa, squadra superoffensiva con gli ingressi di Pajac e Terrani. Per di Carmine, l'ultima palla a tempo scaduto. Intanto c'è ovviamente anche spazio per la Ternana, poker al cardiopalma. Bomber Montalto segna quattro reti, tre nel primo tempo. Nella ripresa la Pro Vercelli a Corcia fino a sfiorare il pareggio. C'è Pocheschi che esulta e dice, la squadra sta con me. Tutti pazzi per il volley. A Città di Castello, dal 27 al 30 dicembre, oltre 20 squadre da tutta Italia, si daranno battaglia al torneo Francesco Fabri. Oltre 250 giovanissime pallavoliste, con il presidente del CSI Fiorelli, che dice, è un momento di crescita per tutto il movimento. Torniamo al calcio. Voluntas, rinforzi dall'Argentina nel taccuino di Arcipreti. Il nome del bomber di Vegnaduzzo e di un centrocampista. E poi il basket. Il Foligno soffre ma vince a Gualdo. Alla ripresa c'è il Perugia. Gubbio col Vicenza caccia al Tris. Prima di ritorno al Barbetti, 14.30. Pagliari dice, servono test e cuore i Veneti in grave crisi societaria. Andiamo alla Nazione per la sua pagina sportiva. La copertina ovviamente dedicata al Grifo. Grifo paristretto. Cerri rimonta il Novara. Tante occasioni, ma alla fine finisce 1-1. Il Perugia rimonta e spreca. Sfida tra i bomber. Sblocca maniero poi la testa di Cerri. Intanto la squadra sarà in campo anche a Natale. Il club subito al lavoro per trovare un portiere. Intanto per le pagelle. Del prete è un diesel. Bianco basta da solo. Distrazione di volta. Andiamo a Terni. Montalto show. La Ternana torna a vincere. L'attaccante realizza il poker e regala i tre punti alle fere. Volley Perugia. Parla Bernardi. Avanti con fiducia per il calcio da Gubbio. Oggi servono testa e tanto cuore. L'appuntamento è alle 14.30. Per il Gubbio c'è il Vicenza che arriva al Barbetti. Vi ricordo che potrete seguire la radio cronaca sulla nostra emittente RGM e ovviamente anche sul canale del Digitale Terrestre. Bene, era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A voi una buona giornata. Grazie per averci seguito.